Il futuro del cinema saranno i brand? Per ora non lo sappiamo, ma sappiamo che quella del brand cinema è una tendenza che sta prendendo sempre più piede all'interno del blockbuster americano. Soltanto quest'anno abbiamo avuto Barbie di Greta Gerwig, che probabilmente è finora l'esempio più completo e più lampante di brand cinema, ma abbiamo avuto anche ad esempio Air, la storia del grande salto di Ben Affleck. Due film che in una maniera molto diversa, ma in fondo molto simile, sono riusciti a promuovere il marchio che li ha finanziati, ma anche in realtà a riflettere in maniera accorta e molto spesso puntuale sulla natura stessa del capitalismo basato sui marchi e sui brand e anche sul marketing. E vedendo ieri al cinema Gran Turismo di Neil Blomkamp, in effetti ho pensato molto sia a Barbie che a Air, ma in realtà ho pensato molto anche a Blade Runner di Ridley Scott. Ebbene sì, se ci pensate, una delle cose più inquietanti del capolavoro di Scott, rivedendola ancora oggi, è il logo della Coca-Cola che campeggia in uno schermo a LED piazzato su un grattacielo all'interno dello scenario urbano di questa Los Angeles futuribile e distopica che ci viene ritratta dal film. E' una delle cose più inquietanti perché ci fa intendere in maniera molto semplice che all'interno della società distopica del film il capitalismo ha trionfato a tutti i livelli ed è diventato pervasivo nella vita quotidiana delle persone. Il logo è l'unica possibile figurativizzazione del capitalismo sul grande schermo perché è la sua esternazione visiva e in Gran Turismo Blomkamp fa un utilizzo estensivo dei loghi di tantissime aziende e multinazionali odier. Che all'interno del film sono le aziende che finanziano le corse automobilistiche e che all'esterno del film sono le aziende che hanno concretamente finanziato la realizzazione del film stesso e che quindi hanno preteso di essere presenti a livello di product placement, una su tutte Nissan. Ma ecco il modo in cui Blomkamp sfrutta tutti questi loghi all'interno del film è altamente significante a costruire un discorso tutt'altro che scontato sul capitalismo stesso come avveniva in Barbie e in Air la storia del grande salto. E infatti io non capisco chi critica il brand cinema perché è tutto e il contrario di tutto. Il cinema olivodiano è sempre stato tutto e il contrario di tutto, è sempre stato la celebrazione del sogno americano e la messa in scena dell'amarezza del sogno americano contemporaneamente. Una dinamica che in realtà abbiamo sempre visto all'interno del cinema a stelle strisce. Quindi ecco queste critiche a volte anche motivate ma mi sembrano un po' sempre ammantate di una certa ignoranza nei confronti di quella che è la storia del cinema nordamericano. Detto questo è vero che appunto tutti questi loghi sono stati imposti a Blomkamp dall'alto ma il modo in cui li utilizza è tutt'altro che passivo esattamente come avveniva con il logo della Coca Cola in Blade Runner da parte di Scott. Quindi Blomkamp fa tesoro di una sceneggiatura che tra l'altro non ha nemmeno scritto lui ma una sceneggiatura che è proprio incentrata sul tema della vendita dei sogni da parte del capitalismo e del cinema. Com'è che oggi le aziende, le multinazionali cercano di venderci sogni? Nel film cerca di farlo il personaggio di Orlando Blomkamp che è proprio il rappresentante della Nissan che ha l'idea di allestire un contest di vera corsa automobilistica tra i migliori giocatori di gran turismo di tutto il mondo. Un'idea pericolosissima come gli farà notare il personaggio di David Harbour che interpreta questo ex pilota che verrà ingaggiato da Blomkamp proprio per addestrare tutti questi giocatori a diventare dei veri piloti. Un'idea pericolosissima ma a Blomkamp non gli frega niente perché per lui è solo una trovata pubblicitaria. Il film come dire fa intendere che in realtà a lui non interessi davvero rivoluzionare il mondo delle corse. Questo capiterà perché in realtà il film è tratto da una storia vera tra l'altro e questo è sorprendente. Però appunto al personaggio di Blom interessa vendere un sogno e quindi vendere più Nissan. Quindi Blom diventa praticamente Apollo Creed in Rocky. Vi ricordate no? Il personaggio di Creed che è già un pugile affermato e famoso ed è proprio lui ad avere l'idea di pescare dal nulla lo stallone italiano con cui mettere su un match di pugilato che sicuramente venderà tantissimo perché è un'idea molto americana come dice lui questo match tra un nero e un italo americano. E anche nel caso di Gran Turismo è tutta una trovata pubblicitaria e davvero con questa invasione di loghi sullo schermo è come se Blomkamp ci volesse dire guardate questo è il modo in cui le aziende di oggi, le multinazionali, il capitalismo dei brand vi vogliono vendere i loro sogni. Ed è un modo orribile, è un modo bieco, subdolo e invece guardate come io Blomkamp vi voglio vendere il mio sogno che è il sogno del cinema in maniera onesta, in maniera genuina. Infatti lo fa con una sceneggiatura, ripeto, non sua ma che fa tesoro del miglior cinema americano possibile, ovvero quello popolare perché Gran Turismo in realtà di fatto non è un film autoriale, è un film che incidentalmente è stato diretto da un autore ma proprio per il suo copione è un film che in maniera schietta e sincera va alla ricerca dell'emozione dello spettatore e questo francamente me lo rende un film magnifico. Vi parlavo di Rocky ma molta critica ha parlato anche di un aggancio con War Games giochi di guerra proprio per questo rapporto che si viene a creare tra la realtà e la virtualità nell'evoluzione del protagonista che è un ragazzo che insegue il suo sogno, ripeto è un personaggio che è realmente esistito appunto da giocatore di Gran Turismo è diventato un esperto pilota di corse cambiando proprio il mondo delle corse automobilistiche nella realtà e la dinamica di War Games c'è proprio nel passaggio dal gioco alla realtà e il gioco nella realtà diventa morte perché Matthew Broderick in War Games se vi ricordate era convinto che la guerra fosse un gioco ma la guerra non è mai un gioco è sempre morte infatti Broderick rischia all'interno del film di far scoppiare una guerra termonucleare totale nella realtà e allo stesso modo noi vediamo all'inizio del film il protagonista di Gran Turismo che sta giocando all'interno delle simulazioni di corsa all'interno del videogame e sentiamo dire una frase ovvero se sbaglio resetto ed è una frase che veramente si pianta nella testa dello spettatore in maniera subliminale e agghiacciante perché da quel momento in poi il film è in grado di innescare una suspense basata proprio sul fatto che noi già sappiamo che il protagonista a un certo punto dovrà entrare realmente all'interno di un vero veicolo da corsa e dovrà affrontare una vera corsa automobilistica perché è quella la promessa del film fin dal trailer e veramente in questo modo il film si trasforma in una riflessione nitidissima su quelli che sono i giovani di oggi e su come l'odierna gioventù sia letteralmente incastrata all'interno di una virtualità che le fa perdere il contatto con la realtà e quindi di un mondo virtuale che diventa una prigione dorata da cui è sempre più faticoso cercare di uscire perché veramente noi un momento prima sentiamo David Harbour dire 40.000 volte a tutti questi piloti aspiranti piloti in realtà giocatori questo non è un gioco, questa è la realtà, questo non è un gioco, questa è una vera gara, questo non è un gioco, questa è una realtà e poi appena il protagonista si ritrova seduto all'interno dell'abitacolo, della sua vettura e la corsa sta per iniziare, che cos'è che ripete dentro di sé per tranquillizzarsi? questo è solo un gioco, questo è solo un gioco appena dopo appunto che Harbour aveva ripetuto 40 volte che quello non è un gioco, è della realtà e quindi noi ci caghiamo addosso per la tensione e quindi per il male che il protagonista potrebbe subire non rendendosi conto di quello che sta per succedere e veramente mi ci metto di mezzo anch'io, anche io faccio parte della gioventù di oggi e vi sto parlando proprio attraverso uno smartphone veramente tutti questi strumenti tecnologici ci hanno imprigionato ci hanno chiuso dentro una gabbia che ci protegge ma senza farci conoscere il dolore, il male, la sofferenza che fanno parte della vita e che molti di noi non vogliono più vivere sapendo appunto che esiste un mondo virtuale in cui è possibile vivere vivere tra virgolette perché non è una vita vera senza dover fare i conti con il male e lo smartphone è presente nel film perché il protagonista conosce questa ragazza con cui non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi e quando inizia a fare il pilota appunto per il contest di Gran Turismo non la vede più di persona ma continua a compulsare i social in particolare Instagram per osservarla nelle sue foto e non ha mai il coraggio di telefonarle per dichiararsi e prenderà il coraggio di farlo appena inizierà l'addestramento fisico per diventare pilota perché in qualche modo riprenderà coscienza della corporità e del fatto che esiste una vita concreta al di là di quella virtuale tra le frasi appunto che sentiamo ripetere più spesso dal protagonista c'è proprio ma io non pensavo che fosse così impegnativo fisicamente che ripeto è anche una frase a suo modo raggelante perché è una frase in cui osserviamo tutta una serie di possibili presagi di sventura, di dolore e anche di morte per il protagonista stesso e ripeto il film è proprio un percorso di rieducazione alla realtà e alla durezza della realtà in vista di un successo personale proprio per ottenere risultati concreti nella vita in realtà il film in questo non demonizza totalmente la virtualità certo lo fa anche perché è un film che deve comunque funzionare da promozione per i videogiochi around turismo quindi si darebbe la zappa sui piedi da solo se demonizzasse la tecnologia e la virtualità ma in realtà il film proprio per vocazione cerca un compromesso virtuoso tra realtà e virtualità in questo in effetti il film è stato affiancato a Ready Player One non estime Spielberg ma il discorso che vuole fare il film su questo versante è soprattutto lavorativo attivente proprio al mercato del lavoro di oggi a tutta una serie di nuove professioni con cui facciamo i conti molto spesso tutti i giorni professioni nate proprio nella virtualità e nel mondo virtuale spesso professioni derisi insomma da una vecchia guardia che vorrebbe un mondo del lavoro soltanto analogico e in realtà tutte queste professioni sono diventate importantissime e appunto sono riuscite non solo a diventare monetariamente concrete ma anche professioni fisiche professioni che sono riuscite a passare dalla virtualità alla realtà esattamente come riesce a fare il protagonista e come veramente questo personaggio nella realtà è riuscito a fare cambiando il mondo delle corse automobilistiche e un altro film che sicuramente è stato utile a Blomkamp come fonte di ispirazione è Giorni di Tuono di Tony Scott che diciamo è un film abbastanza anche deprecabile e detestabile per il suo essere un top gun ugualmente pattinato ma riambientato nel mondo delle corse automobilistiche sempre con Tom Cruise il protagonista fra l'altro ma diciamo che il rapporto tra il protagonista di Gran Turismo e il personaggio di David Harbour è molto simile a quello che c'era tra il personaggio di Cruise e quello di Robert Duvall in Giorni di Tuono appunto il rapporto allievo-mentore con un mentore proprio con quella bonacciona disillusione che è quella di Duvall ma appunto anche quella di Harbour in Gran Turismo e diciamo che il rapporto allievo-mentore è un classico del cinema virile lo abbiamo visto in tanti film che amiamo Karate Kid ma anche recentemente il rapporto tra Michael B. Jordan e Sylvester Stallone nei vari Creed diciamo che Giorni di Tuono c'è anche perché il protagonista interpretato da Cruise anche lui era nuovo al mondo delle corse automobilistiche aveva guidato solo prototipi e anche in questo caso appunto c'è un protagonista che deve farsi le ossa proprio nel mondo delle corse ma citerei anche tra le fonti ispirazione forse Speed Racer delle sorelle Wachowski all'epoca appunto erano ancora fratelli e comunque appunto il cinema automobilistico è sempre stato come dire molto frequentato da molti registi Blomkamp si inserisce anche lui in questa scia con un mestiere molto robusto certa critica ha parlato anche di sperimentazione visiva mi sembra un'esagerazione certo ci sono tutta una serie di trovate veramente allettanti di scomposizione visiva delle automobili di apparizione proprio di segnaletica virtuale che in realtà fa parte della visione secondo la prospettiva del protagonista che noi soggettivamente possiamo osservare sullo schermo ma per la maggior parte diciamo che si tratta di roba comunque già vista ma Blomkamp sa assolutamente il fatto suo certo appunto che magari in questo film non è che ci si ritrovi così tanto di quella fantascienza proletaria per la quale all'epoca di District 9 e poi anche di Elysium e di Juman Droid era stato acclamato come autore nel vero senso della parola Blomkamp resta comunque un grande talento da seguire con interesse e fortunatamente con questo film si è ripreso dopo quello proprio di Demonic che fortunatamente da noi era uscito solo on demand poi nella prossima storia vi metto comunque tutti i miei voti su Blomkamp questo Gran Turismo ha una regia notevole ha un montaggio che è notevole credo che il lavoro di montaggio che è stato svolto su questo film sia impressionante a tratti ed è un film che vi invito a confrontare anche con Ferrari di Michael Mann quando uscirà Ferrari proprio per questo tema della morte applicato al mondo delle corse automobilistiche e fate attenzione anche al ruolo della musica all'interno di questo film che inizialmente serve al protagonista per evadere dalla realtà e quindi per rifugiarsi nella sua prigione dorata ma poi ad un momento cruciale proprio della storia gli servirà per rimettere i piedi nella realtà quindi interessante anche questo e veramente vi invito ad andare a vedere questo film a farvi anche una vostra idea a dirmi la vostra se l'avete già visto e veramente per me una bella sorpresa a dirmi la vostra idea a dirmi la vostra idea a dirmi la vostra idea grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti